La prematura scomparsa del consigliere comunale Biagiotti per mesotelioma ha fatto rizzare le antenne all'amministrazione sulla tematica amianto. La sua resistenza al calore ha fatto sì che questo materiale venisse utilizzato in maniera spropositata dalle aziende fino ai primi anni 90, quando poi la sua produzione divenne fuori legge in Italia nel 1992. La nocività per la salute dell'uomo di queste fibre, se inalate, è stata accertata per aver generato nel corso del tempo la formazione di gravi patologie. Ed ora, dopo che in questi 30 anni è stato fatto ben poco riguardo allo smaltimento di amianto, in questi giorni Elisabetta Sacchi, presidente di ONA Pesaro, sta instaurando una serie di dialoghi con Comune e Regione. L'obiettivo è sollecitare al più presto l'attuale Governo a favore di una riforma che preveda una quanto mai rapida ed estesa bonifica di questo materiale, presente ancora massicciamente in Italia. L'amianto è ancora tanto presente sul nostro territorio. È da luglio che sto cercando di prendere dei contatti appunto con il Comune, con la Regione e anche con Roma, perché poi se non parte dal Governo fanno fatica anche tutti i vari enti istituzionali a mettere in pratica le leggi. Si è aperto questo dialogo con il Comune e abbiamo pianificato delle azioni più urgenti da mettere subito in pratica. Sto aspettando un incontro con la Regione, che ho scritto anche loro da luglio, per poter attuare anche con loro le leggi che ci sono in vigore. Noi abbiamo il Decreto 101, dove dice, del 2003, che era la Regione che doveva fare la mappatura e che ogni anno, entro il 30 di giugno, dovevano trasmettere all'Ufficio Ambiente di Roma la situazione della Regione. Dal 2003 ad oggi non è mai stato fatto e quindi sto cercando di mettere in moto questa mancanza che c'è stata in tutti questi vent'anni di tempo. Naturalmente abbiamo visto che ci sono dei segnali positivi anche da Roma con il Senatore Turco che ha presentato un disegno di legge per bonifiche amianto sia degli edifici pubblici che dei privati. Quindi mi fanno ben sperare che questa volta veramente il problema amianto sia preso di petto. Ha parlato di mappatura. Quanto è ancora rilevante la presenza dell'amianto nella provincia di Peserurbino? Noi ancora abbiamo tantissima presenza nelle zone industriali, nelle zone agricole, ma anche al centro delle città. Abbiamo fatto diverse segnalazioni di presenza di amianto che ci arrivano dai cittadini perché adesso l'importante per mettere in sicurezza i nostri luoghi di vita è vedere che non ci sia il rilascio di fibre. Quindi bisogna assolutamente controllare queste pettoie che, come ho detto prima, persino al centro della città, in via Branca, ci sono. Quindi dobbiamo assolutamente far controllare che non ci sia il rilascio. Purtroppo sapete tutti il problema amianto perché c'è. C'è perché non ci sono i fondi, non ci sono i soldi. Anche per le famiglie stesse è una spesa un po' insostenibile. Quindi se non arrivano da Roma, dalla regione, ma anche dal comune, dei bandi per cui accedere, per cui aiutare sia le famiglie ma anche gli imprenditori a mettere in sicurezza i luoghi di vita facciamo difficoltà. Ecco, chiedo anche i proprietari di questi manufatti in amianto di farli controllare, di veramente che non ci sia questo rilascio. Ci sono vari metodi. Noi siamo a disposizione come associazione. Attualmente sono 6.000 le morti all'anno in Italia per via dell'inalazione di queste fibre. Non c'è solo il mesotelioma come tumore per l'amianto. Mesotelioma era una parola che io fino a quanto non mi è morto babbo non l'avevo mai sentita. E adesso invece in quest'ultimo anno, oltre al consigliere di 40 anni, ecco perché dico che dobbiamo assolutamente mettere in sicurezza. Perché se tenete conto che i tempi di latenza sono dai 20 ai 40, 50 anni, cioè una persona di 40 anni vuol dire che ha forse innalato le fibre nella gioventù. Quindi chiedo veramente l'intervento di tutti, di veramente tutti.